dottore prima di procedere con l'estrazione del dente potrei sapere il costo 100 euro con l'anestesia e il 50 senza 50 senza anestesia va bene allora senza anestesia andiamo di là sulla poltrona e complimenti per il coraggio visti il dottore ti ha fatto anche i complimenti adesso vai di là sulla poltrona stai calma e tranquilla e fidati del dottore